Ragazzi belli, si torna ad investire, è uscito l'evento mondiale che ovviamente ha portato a un bel crash di prezzi per quanto riguarda soprattutto le cheapest e quindi bisogna andare ad investire su varie categorie. Oggi però vi do due filtri investimenti molto interessanti che vi fanno prendere delle carte all'asta a basso prezzo, quindi più basso di quando diciamo ne andiamo a snapperare. Quindi il primo filtro che vi vado a consigliare io l'ho chiamato filtro 84, l'ho già consigliato sul gruppo Telegram e anche live sulla piattaforma Viola, vi invito ad entrare ovviamente nel gruppo Telegram dedicato alla compraventa, moduli, tattiche, consigliatori e tutto quello che volete, c'è il link in descrizione e anche della piattaforma Viola dove vado live, c'è sempre il link in descrizione e ovviamente anche di Instagram. Detto questo passiamo al primo filtro che vi vado a consigliare è il filtro 84 per trovare bene o male gli 84 sotto i 2k, fino a 2000 crediti va sempre bene, però comunque se riusciamo a prenderli meno va più che bene, io ieri sono riuscito a prendere anche qualche 84 a 1100, 1200 con questo filtro qua. Quindi vi piazzate prezzo minimo 8,5900, prezzo massimo 2000 e minimo compra ora andate sopra i 10k, fate la ricerca e tutti gli 84 che trovate, vedete in questo modo qua, Berardi 1800, 1900 sta a 40 secondi, quindi li trovate alla scadenza. Chiellini ha 2000 crediti e vi andate a fare tutte le offerte sugli 84 così li prendete diciamo al minimo prezzo che potete. Ok, massimo in questo caso io vi invito a prenderli massimo a 2k, poi qualche giocatore un pochettino più interessante anche a 200 non è un problema. E questo per quanto riguarda il filtro 84, per quanto riguarda invece il filtro 85, piazzate prezzo minimo 5.800, anche 6.000, prezzo massimo 7.000, minimo compra ora 13.000 e questo è il filtro 85, l'ho chiamato per trovare gli 85. Vi mettete qua, Carrasco vedete a scadenza 15 secondi, 6.300 crediti, 6.400 e lo andate a prendere, Diogo Yota 7.000, quindi vi fate tutte le offerte sugli 85, li prendete massimo a 7.000 crediti. Quindi questi sono due filtri che vi vado a consigliare, filtro 84, ripeto, vi piazzate qua per il filtro 84 sugli 8.50, massimo 2000 e qua mettete minimo compra ora sopra i 10k e andate a fare tutte le offerte sugli 84 che trovate ovviamente a scadenza. Vedete Joe Felix 1.800, magari lo riuscite a prendere a 1.900, Perisic, vedete comunque ne escono a scadenza di 84. Per quanto riguarda invece il filtro 85, vi piazzate sui 5.800, mettete qua massimo 7.000 perché gli 85 hanno presi massimo a 7.000 crediti, più 10k per quanto riguarda il minimo compra ora e vi escono gli 85. Andate a fare tutte le offerte, 7.000, massimo proprio 7.100 su qualche giocatore magari che linka di più, Jordi Alba vedete sta a 6.600, magari lo prendete a 6.700 e fate tutte le offerte sugli 85. Ovviamente per quanto riguarda, adesso vi faccio vedere anche la mia lista trasferimenti che ho fatto gli investimenti, mi è partito già qualche 84, ho preso ovviamente categoria un pochettino più alta, 88 sotto i 20k, 87, 86, 85, vedete poi li ho rilistati tutti a un'altra. Quindi gli 84 li mettete intorno ai 28, 29, 3000, gli 85 li listate intorno ai 10.750, 11.000. Ovviamente per chi ha un basso budget, per chi ha un basso budget consiglio di andare solo ed esclusivamente su 84 ovviamente per non andare a prendere carte che comunque costano di più, dopo ne prendete di meno. Per chi invece ha un alto budget andate su 85, 86, ok? Quindi gli 86 massimo li prendete a 12.750, 13k e li listate a 16k. Eccoli qua, questi sono tutti i miei investimenti, poi ovviamente ci sono dei GIF che ho messo in vendita, più che altro ho preso 84, 85, qualche 86, qualche 87 e qualche 88. Detto questo, se usate questi filtri fatemi sapere cosa ne pensate, vi aspetto sulla piattaforma Viola e su Telegram, gruppo dei dati da compravenda, moduli, tattiche, giocatori e tutto quello che volete. Ci sono tutti i link in descrizione, iscrivetevi al canale e lasciate un like. Vamos ragazzi!